L'offerta culturale doveva essere necessariamente a 360 gradi, si va dalle produzioni dell'Antigone, il Centenario di Calvino, fino al Festival, alla Danza, quindi non volevamo una sorta di appiattimento che è simile a quello che noi vediamo in giro, quindi dobbiamo ringraziare chi ci ha dato una mano, Luciano che ci dà il teatro, perché avere un teatro a disposizione non è roba da tutti i giorni. Abbiamo voluto fare un'offerta a 360 gradi, accontentando più o meno più utenze e soprattutto alcune cose le abbiamo prodotte, volute. Perché le abbiamo volute? Perché noi non siamo dei collocatori artistici, noi siamo gente che fa proposta e quindi ringraziamo il Braga, la Benedetto Marcello con la quale da mesi stiamo intrecciando dei rapporti. E poi perché stiamo a uno sparo dalla città, potete venire a sentire il jazz, il latino-brasiliano che sarà spettacolare, il blues, l'Antigone. Quindi a noi c'era parso giusto di staccarci da quello che secondo noi è una programmazione provinciale abbastanza ripetitiva. Ci fa qualche nome degli ospiti più attesi? Probabilmente la punta sarà Buzurro il 25, perché Buzurro viene apposta, ci torna dalla Spagna per fare questo concerto il 25, ma anche il 24, Solieri ha già un buon seguito. Niccolini che è la punta di diamanti dell'Accademia Italiana di Chitarra, che sarà il primo a debuttare. E poi perché no? Ma un Antigone, un prodotto, un calvino, centenarie, siamo gli unici. Quindi voglio dire ce ne è per tutti. E poi soprattutto siamo riusciti con un accordo con il Braga a ottenere un concerto, un sestetto messo a posto tra i docenti delle varie sezioni jazz del Braga. Che sarà un concerto meraviglioso. Ci ha fatto pelare la testa, però alla fine ci sta, ci sta. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione che ci ha dato retta, il BIM che si è preso questa bella responsabilità, però la responsabilità culturale paga. Paga.